Guarda, c'è la televisione, ha visto? Salve, salve. Ma, guarda qui c'è. Oh, Cossiga, che tu fai nascosto qui dietro? E Cossiga, uno un po' strano, tu lo conosci? Allora, siccome bisogna dimostrare di essere preparato in tutti i campi, mi devi dire, Michele, qual è la capitale della Bulgaria? Pensaci per bene, prima di rispondere, non affrettarti. Rifletti, la capitale della Bulgaria. Non è difficile. Gli si dà un piccolo aiuto, via, che dite? Questa città porta il nome di una donna. Una donna molto bella anche. Una bravissima attrice. Ah, un'amica Giulia Roberts. No, era Sofia, Sofia Loren, Michele. Senti questa, un uomo entra in un bar, splash. E così non funziona il micro, Ronald, è dove di caffè. Meno male avere anche scritta. Certo, ci si fa un par di palla, sa qui non se ne può più. Non ti pare? Urca. Uh, per fare una firma, Dio Bono, ci hai voluto un par di settimane. Ma, io sono presidente degli Stati Uniti, no? Ho dell'Unione Sovietica. Lo stesso, no? Unione Sovietica, guardi. Ah. Sicuri, eh? Bah, speriamo bene. Grazie a tutti. Artro